Ilaria Galassi svela di avere avuto un aneurisma e poteva perdere la vita. Ilaria Galassi, ex subret di Nonè la RAI attuale concorrente del Grande Fratello, ha raccontato ieri sera che ha avuto un aneurisma e ha seriamente rischiato, se ne è uscita e grazie alla famiglia e alle sue amiche di Nonè la RAI, ha svelato infatti la stessa a Alfonso Signorini che è successo che ho avuto un aneurisma congenito. Mal di testa, son svenuta. Poi mi sono ripresa, vedevo delle immagini di persone che non c'erano, quindi c'era qualcosa che non andava. Sono stata operata per 10 ore il 24 dicembre del 2000. Non mi ricordavo più niente, non mi ricordavo il nome dei miei genitori. Ho assaporato la morte. Adesso vivo la vita con una leggerezza importante. Ho avuto una seconda possibilità. Sono viva. Amo la vita e la vivo come voglio vivere io. Vivo con leggerezza, che non significa essere superficiali. Credo che tutto si possa risolvere, che non bisogna avere paura di niente perché soltanto di una cosa si può avere paura, la morte. E ha svelato anche di come è successo il tutto, infatti ha detto che Stavo andando a fare uno spettacolo. Ero in macchina e mi hanno chiamata dicendo che aveva avuto una cosa molto grave e che rischiava la vita. Grazie. 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 Grazie.